c'è il buio allora ragazzi queste immagini vengono perché sono andato a fare una partita bullying con mia figlia e cosa ti trovo i dd montati sulle postazioni ormai le sale giochi non sono più quelli di una volta ragazzi incredibile sono rimasto scioccato non ho tempo per provare però tanto ci torno ecco il bullying vicino a casa mia incredibile ragazzi fantastico che evoluzione cioè prima c'erano gli elastici dentro i volanti eppure la voce se ne va cavolo ecco qua ma ragazzi alla prossima ciao